Grazie professor Tartabini Adesso inizierò leggendo una sua breve introduzione per chi non la conosce e poi partiremo con le domande Allora, professor Angelo Tartabini è professore ordinario di psicologia generale all'Università di Parma dove ci troviamo adesso, al Dipartimento di Neuroscienze in passato ha svolto attività di ricerca in Giappone, alla Kyoto University in Olanda, all'Institute of Organization for Health Research negli Stati Uniti, alla California University di Davis in Sudafrica, in Canada e complessivamente per una decina di anni in Inghilterra presso il Sub-Departement of Animal Behavior del Medical Research Council dell'Università di Cambridge è autore di un centinaio di pubblicazioni di una dozzina di volumi tra cui Biologia di evoluzione del comportamento animale ed umano l'uomo allo specchio sono molti libri fondamenti di psicologia evoluzionistica crimini incontro all'ambiente e con collaborazione con giusti l'origine ed evoluzione del linguaggio Allora, parto con la prima domanda qual è il tema, la domanda principale che negli anni l'ha appassionata portandola a sviluppare questo suo percorso di ricerca nella psicologia evoluzionistica La scoperta di David Bass che è uno psicologo evoluzionista americano che ha operato per gli anni 80-90 pubblicando dei libri molto interessanti e uno dei più interessanti almeno dal mio punto di vista è l'evoluzione del desiderio sessuale quindi il mio punto di vista poi ovviamente ne ha scritti altri e ora in Italia è in circolazione un altro suo libro tradotto dalla Pearson che si chiama Psicologia evoluzionistica e mi ha affascinato Bass soprattutto per i temi trattati perché gli argomenti di Bass vengono secondo me molto trascurati dalla psicologia più in generale o se vogliamo una psicologia generale e invece sono argomenti molto importanti perché quando si parla di criteri selettivi del partner sessuale secondo me introduce un nuovo discorso sul modo in cui noi abbiamo sempre interpretato l'innamoramento una relazione sessuale a breve e lungo termine mentre Bass è con i piedi per terra per così dire che non c'è niente di trascendente diciamo nelle sue ipotesi quindi con i piedi per terra ha verificato l'importanza dell'esistenza di cui noi ovviamente siamo inconsapevoli che però funzionano ai fini proprio dell'innamoramento che sono tipicamente maschili e tipicamente femminili cioè del partner femminile e maschile il reciprocamento ovviamente e sono molto diversi questi criteri è chiaro che questa idea di Bass che ovviamente ha suscitato molte perplessità è un'idea diciamo rivoluzionaria perché cerca un po' di quantificare di così togliere dal campo l'idea che l'innamoramento sia un qualcosa di razionale e di esistenziale invece non è così ci sono degli elementi che ci spingono a fare delle selezioni biologiche sono caratteristiche o criteri diciamo comportamentali ma anche estetici che combinati ovviamente possono determinare la scelta ideale ideale e importante del partner sessuale perché è ovvio che io preferirei selezionare un partner femminile bello, giovane, ricco intelligente eccetera però ovviamente le condizioni umane sono quelle che sono quindi questo sarebbe un mio partner idealizzato e così ovviamente varrebbe anche per il partner maschile però questi criteri in effetti sono funzionali nel senso che ci inducono a fare certe scelte piuttosto che altre scelte poi se questo non va a buon fine è un altro discorso e poi tutta la ripartizione che lui fa sui criteri selettivi in funzione della scelta di un partner a breve termine o a lungo termine e qui cambiano poi i criteri selettivi ovviamente cioè noi facciamo tutte queste cose abbastanza in maniera molto spontanea senza che ce ne rendiamo conto e crediamo veramente che tutto dipenda dalle nostre come posso dire dei nostri interessi letterari culturali quando cerchiamo di individuare un partner piuttosto che un altro no sono insomma esistono degli elementi molto più direi terra terra ma non in senso dispregiativo ma ovviamente in senso positivo perché perché il mondo è andato sempre così da quando esistiamo ovviamente i criteri selettivi dei nostri lontani antenati erano leggermente diversi dai nostri e quindi attraverso il corso dell'evoluzione si sono modificati anche quelli mentali ovviamente non solo quelli comportamentali estetici però è così che funziona è così che funziona negli animali quindi quindi la passione che la mossa se ho capito è lo scoprire che moltissimo del nostro comportamento del nostro modo di funzionare delle scelte delle priorità che spontaneamente e anche condividiamo socialmente e culturalmente teniamo scontate in realtà sono frutto di una storia evolutiva il nostro essere specie sono abbastanza schematiche ma questa schematicità ovviamente ha subito una pressione selettiva attraverso attraverso tutto il corso della nostra evoluzione da quando non solo siamo sapiens o siamo stati erectus o habilis ma prima ancora voglio dire certo e questi accostamenti almeno per certa psicologia evoluzionistica sono interessati diciamo se vengono fatti guarda caso vengono questi interessi rivolti a chi gli animali hanno i più prossimi e cioè i primati non umani e in particolar modo lo scimpanse perché lo scimpanse il gorilla non potrebbe andare certo va bene anche il gorilla perché anche il gorilla nasce antropomorfa però con lo scimpanse abbiamo molto più in comune noi esseri umani rispetto al gorilla non molto di più però insomma si dice anche l'aggressività si ma soprattutto guarda che al momento che parliamo di comportamento sessuale comportamento sessuale il gorilla da questo punto di vista è un animale meno aggressivo più docile verso il partner femminile e questo è interessante perché questa diciamo docilità chiamiamola così che non le troviamo nello scimpanse comune è dovuto ad un insieme di cose che si sono che anche loro hanno subito la pressione selettiva nel senso che il gorilla è una specie più o meno monogamica il maschio dominante è il leader di un gruppo piuttosto quasi familiare piuttosto piccolo in cui le femmine sono a disposizione senza tanti problemi quindi non c'è competizione mentre nello scimpanse comune questo cambia un pochettino nel senso che la vita dello scimpanse è comune da questo punto di vista è molto più caotica nel senso è molto più c'è molta più confusione le scelte del partner ovviamente non sono regolate solo dalla gerarchia ma da tante altre variabili insomma è una cosa molto più complicata ma molto più vicina a noi guarda caso e se posso dire una cosa mi interessa molto se mettiamo aggressività forza fisica stazza dell'animale competizione per il partner noi da un punto di vista fisico assomigliamo molto di più allo scimpanse comune che al gorilla e anche da un punto di vista della conformazione e del peso e del volume dell'apparato genitale soprattutto quello maschile voglio dire che il gorilla è un animale che può pensare da adulto anche due quintali ma un apparato genitale piccolissimo lo scimpanse che è molto più piccolo del gorilla di un terzo a volte anche di più uno scimpanse comune può arrivare a 40 50 kg il massimo un gorilla a circa due quintali quindi c'è una bella differenza ha un apparato genitale molto più vistoso corposo eccetera e l'uomo nonostante sia diciamo non estremamente grande è molto più piccolo rispetto a un gorilla a un apparato genitale molto vicino a quello di un cimpanse cioè in maniera proporzionale al corpo abbastanza alta questa volumetria dell'apparato genitale maschile e questo perché se l'esco che era esatto d'accordo sì però qui la psicologia evoluzionistica dovrebbe assorbire molto da questi diciamo concetti da questi confronti perché ovviamente lo scimpanse si trova in una società molto più competitiva rispetto a quella del gorilla e anche la nostra alle origini era una società molto vicina a quella degli scimpanse attuali abbastanza competitiva e quindi ovviamente avere un apparato genitale grande evidente cioè è vistoso era molto importante per selezionare per diffondere il proprio patrimonio genetico ma questo poi ovviamente non è così un fenomeno sì si è evoluto cioè si è riflesso anche sul modo di pensare degli animali anche ovviamente nei nostri antenati e anche dell'uomo attuale ovviamente ecco questo diciamo è stato quello che mi ha la mossa sì che mi ha spinto ad approfondire un po' questi temi trattati da Bass e da vari altri psicologi evoluzionisti americani mi raggancio a questo e mi faccio la seconda domanda quindi visto che abbiamo parlato appunto di un autore significativo nella psicologia evoluzionistica questa io stesso sono uno psicologo e non tutti i miei colleghi conoscono la psicologia evoluzionistica le chiedo attraverso quali metodologie approcci e conoscenze la psicologia evoluzionistica riesce a risolvere la difficile sfida di sviluppare ipotesi e teorie sullo sviluppo filogenetico della mente neanche di una parte organica in qualche modo che si può recuperare rimasta magari della nostra specie allora il soggetto di ricerca ovviamente della psicologia evoluzionistica cioè non è come studiare la conformazione del piede che ne so del pipistrello oppure di un altro mammifero è una cosa molto più complessa però questo non toglie il fatto che la metodologia ovviamente della psicologia della psicologia evoluzionistica deve essere scientifica ed è scientifica e quindi le fasi diciamo di formulazione delle ipotesi eccetera sono come quelle che si formulano quando si studia un altro diciamo un altro oggetto un'altra funzione e quindi non c'è una differenza sostanziale ora qui ovviamente ha parlato di filogenesi le cose si complicano un pochettino e qui farei molta attenzione perché anche sulla questione dell'antogenesi filogenesi secondo me insomma le cose non sono cioè prima si faceva una distinzione l'antogenesi ricapitola la filogenesi però ora ci sono degli studiosi che non sono tanto d'accordo ma io ancora non ho capito bene in effetti quali sia la motivazione che ha spinto questi critici a criticare questa vecchia idea di questo studioso tedesco dell'inizio del novecento non lo so però insomma sulla scientificità della psicologia evoluzionistica non si può assolutamente dire niente è una disciplina scientifica anche se poi lo strumento ma che cosa si appoggia alla comparazione col comportamento animale le neuroscienze che comunque su che cosa cerca di fondare poi un'ipotesi allora cioè questo è un punto molto interessante secondo me cioè la psicologia evoluzionistica è nata negli Stati Uniti d'America sembra di parlare come di una scuola psicologica il behaviorismo nasce negli Stati Uniti che ne so l'introspezionismo in Germania tutto questo la gestata in Germania e così via di seguito in un certo senso la psicologia evoluzionistica è una disciplina tipicamente americana perché nasce negli Stati Uniti con alcuni autori molto noti molto importanti e secondo me il più importante di tutti è Bass David David Bass però diciamo questa scuola americana è costituita soprattutto da degli studiosi la cui estrazione diciamo scientifica e culturale tipicamente psicologica questo secondo me è un po' limitato però senza ovviamente fare il megalomane voglio dire nel senso che è così ha limitato l'aspetto comparativo che manca nella psicologia evoluzionistica americana diciamo in Italia invece introdurre questa prospettiva comparativa che è importante ecco perché il punto di riferimento sono gli animali in generale non umani ma sono soprattutto le scimmie antropomorfe perché sono le più interessanti per un possibile confronto sull'evoluzione delle funzioni mentali non è che ci abbiamo altri punti di riferimento potessimo immaginare lo psicologo evoluzionistico ideale se esiste dovrebbe essere un po' una specie di mezzo etologo mezzo mezzo etologo mezzo primatologo mezzo psicologo no è tutto psicologo nel senso che la psicologia è fondamentale ovviamente però non si deve alimentare soltanto allo studio delle funzioni che sono state sempre trattate in psicologia la memoria la motivazione è veramente interessante come in tanti campi di frontiera di evoluzione della conoscenza umana i punti più significativi si incontrano spesso in team e ricercatori che hanno competenze che io chiamo ibride certo che riescono a unire discipline tradizionalmente distanti e all'interno di quello spazio riescono a trovare quel passaggio che mancava magari da te certo questo è vero questo è vero e faccio una terza domanda quali sono i tratti specifici anzi le formulo così da Homo sapiens chiedo un altro Homo sapiens quali sono i tratti specifici della mente di noi Homo sapiens che ci distinguono dagli altri animali allora da un punto di vista diciamo qualitativo non c'è nessuna differenza stiamo parlando della stessa diciamo funzione psicologica oppure se vogliamo tanto per intenderci meglio parlare di coscienza uno scimpanse che ha un cervello abbastanza evoluto anche se più piccolo del nostro però insomma con funzioni corticali molto complessi ha da un punto di vista qualitativo una coscienza come è la nostra poi se sia ovviamente nucleare o estesa su questo ovviamente si può discutere sarà più nucleare che estesa quello che ci differenzia anche se quello che ci differenzia ovviamente è la quantità ovviamente noi abbiamo funzioni corticali molto più complesse di quelle di e che poi tra l'altro per così dire si intrecciano tra di loro il linguaggio non potrebbe esistere se noi non avessimo una memoria voglio dire se non avessimo ovviamente motivazioni non potremmo provare delle sensazioni o viceversa e quindi se non avessimo sensazioni non potremmo nemmeno percepire ovviamente sono tutte funzioni psicologiche molto complesse però questo non vuol dire che totalmente almeno alcuni animali con un cervello abbastanza non ne siano direi c'è sottolineare come dire una continuità del fenomeno psichico intraspecie certo e se magari in una fantascienza evoluzionistica non fosse caduto il famoso meteorite e ci fosse stato il tempo per i dinosauri per esempio di evolvere soveremmo sauro sapiens chi lo sa voglio dire non lo sa nessuno non lo sa nessuno se c'è qualcuno cioè si può ovviamente fare tutte le ipotesi possibili immaginabili ma le ipotesi voglio dire devono essere verificate non ci porterebbe da nessuna parte però mi è chiaro mi interessava questo suo voler sottolineare più la continuità che la differenza dell'uomo rispetto agli altri umani certo per questo il confronto è importante è interessante secondo una diciamo una scala parlare in questi termini ovviamente soprattutto in certi contesti si borge un po' il fianco ovviamente delle critiche che poi sarebbero anche giuste ma è tanto per intenderci voglio dire sì sì cioè in cima ci siamo noi in cima in questa piramide per quel che ne sappiamo esatto poi ovviamente ci sono altre specie che guarda caso appartengono al nostro stesso genere cioè i primati non umani e poi si può scendere voglio dire cioè questo è importante insomma se no il confronto come lo fai tu non puoi confrontare il livello cognitivo di una mosca con quello di un scimpanze sono delle differenze immense una mosca non so avrà qualche neurono un scimpanze c'ha migliaia di neuroni in testa un'altra domanda è quanto la nostra specie è caratterizzata dalla creazione di artefatti non solo fisici e quindi questa potrebbe essere una differenza ma anche cognitivi e che cosa pensa del concetto di mente stesa facciamo la prima quella su cioè tutti se ho capito bene la domanda insomma tutti gli artefatti fisici quindi la tecnologia e anche quelli cognitivi appartengono ovviamente alla specie umana ma non è che gli animali siano totalmente esclusi da da queste possibilità di fare delle scoperte fondamentalmente perché sono delle scoperte di utilizzare una certa tecnologia anche se rudimentare ovviamente che però possono anche loro modificare nel tempo con ovviamente lo sviluppo culturale per così dire specie specifico quindi appartenenza dell'animale che fa queste scoperte importanti interessanti che poi divendono tradizioni culturali nel senso dal momento che hanno queste capacità intellettive abbastanza elevate sto parlando soprattutto delle scimmie in particolare di diffondere diciamo queste conoscenze non con gli strumenti che abbiamo noi a disposizione però anche loro ovviamente hanno forme di comunicazione e di farli propri perché sono utili e convenienti e anche loro ovviamente passano attraverso la versione selettiva perché se fossero inutili verrebbero dimenticati e lasciati lì da parte e poi magari ripresi però diciamo quelli più funzionali quelli più importanti diventano fondamentalmente delle tradizioni culturali che sono utili alla nostra sopravvivenza e anche a quella degli animali gli animali sfruttano queste tecnologie soprattutto per diciamo questioni alimentari e questioni riproduttive perché per riprodursi è fondamentale ovviamente alimentarsi se ci si alimenta si diventa fisicamente più forti più competitivi insomma c'è la possibilità di diffondere di più il nostro il loro patrimonio genetico questo in un certo senso però è valso anche per i nostri lontani antenati anche per gli uomini ovviamente del terzo millennio anche se noi facciamo queste operazioni inconsapevolmente molto spesso ma io so che alcuni primati e non solo alcuni primati anche mi sembra i corvi altri animali hanno la capacità di concepire il concetto di artefatto fisico magari per raggiungere un certo punto con un bastoncino e quello è un prolungamento della propria estensione esatto ma l'artefatto cognitivo si chiama cognitivo appunto perché per esempio è una specie di memoria ausiliaria cioè carta e penna o le pitture rupestri sono un qualche cosa che sopravviva anche al fatto che quella intera comunità muoia no? c'è quindi una specie di poi la capacità di estrarre il significato da quell'artefatto cognitivo di pitture rupestre è nettamente inferiore rispetto a un libro scritto in un linguaggio che uno conosce ovviamente quindi c'è stata un'evoluzione poi da quello che io ne so sono solo gli uomini gli esseri umani che hanno sviluppato artefatti cognitivi allora se ho capito poi nella domanda quando parla di artefatto cognitivo cioè voglio dire anche gli animali hanno cognizione sì ecco il livello diciamo cognitivo di uno scimpanse certamente è inferiore al nostro ma superiore a tutte le altre specie animali viventi e anche non viventi e quindi questa capacità che hanno questi individui di elaborare fondamentalmente queste attività che all'inizio sono abbastanza schematiche attività schematiche possono essere acquisite divulgate e possono in un certo senso caratterizzare una mente piuttosto che un'altra mente ma non non depositate su un artefatto indipendentemente da te e cioè tipo appunto un allora per esempio l'invenzione della scrittura o della pittura prima ancora allora per capirci secondo me partiamo da esempi precedenti cioè prima della nascita non solo del linguaggio ma del prodolinguaggio allora uno scimpanzè che prende un bastoncino lo infila in un termitaio e magari lo fa anche per gioco dunque a un certo momento realizza che i termiti insomma si attaccano al bastoncino questo corpo è strano poi questo bastoncino viene estratto ma guarda un po' dice lo scimpanzè che operazione ancora comunque non ha cognitivamente realizzato l'importanza della sua operazione che è fondamentale per la sua sopravvivenza ancora lui non ne sa assolutamente niente d'accordo? soprattutto quando lo fa la prima volta soprattutto quando lo fa un indietro perché non tutti gli scimpanzai fanno operazione di queste la realizzazione dell'importanza di un'operazione del genere viene dopo ovviamente ora certo non ci farà una riflessione filosofica lo scimpanzè sull'importanza di un'operazione del genere soprattutto per la sua sopravvivenza perché dal punto di vista alimentare è molto importante ma questo diciamo per lo scimpanzè è un fatto secondario è importante che lui lo faccia lo diffonda e che gli altri individui acquisiscono e che certo anche a un certo livello diciamo di elaborazione di informazione quindi da un punto di vista cognitivo c'è la realizzazione di un'importanza per un comportamento del genere così importante e questo ovviamente vale anche per noi a un livello molto più complesso se ho capito diciamo la domanda e il linguaggio ovviamente è secondo me insomma è stato un fatto una circostanza casuale che poteva anche non succedere potevamo anche rimanere degli animali insomma abbastanza intelligenti ma muti ma insomma le cose sono andate così però mentre diciamo cominciavamo a comunicare anche se in maniera rudimentale non è che cognitivamente stavamo realizzando l'importanza di un'operazione del genere questo ce ne siamo resi conto dopo successivamente quando abbiamo capito che comunicare con uno strumento del genere era molto più veloce che stare lì a comunicare con altri strumenti come fanno gli animali ci avremmo impiegato chissà migliaia ecco e quindi avremmo potuto insomma così lasciare la faccia della terra con il fatto che una volta la conoscenza era depositata soltanto nelle menti degli anziani e veniva trasmessa oralmente con l'invenzione della scrittura in prima civiltà a questo punto è stata come dire creata una specie di memoria ausiliaria che è indipendente dalla presenza fisica dell'anziano che si ricorda come che ne so coltivare il campo o comportarsi sembrano una ferita eccetera eccetera poi viene l'importanza della scrittura perché questo è stato un elemento fondamentale per diciamo diciamo così la nascita della civiltà moderna ci fosse stata la scrittura potevamo anche correre il rischio che la nostra cultura insomma prima o poi scomparisse come ovviamente sta scomparendo molte culture in cui non esiste più la tradizione non è mai esistita la tradizione nella trasmissione c'è chi dice la scienza attraverso la scrittura il primo i primi artefatti sono appunto il linguaggio scritto e il calcolo certo e oggi abbiamo infatti la matematica la scienza fino a avere artefatti come il computer e internet che sono un po' un'evoluzione di allora l'altra domanda è quali sono le principali biases cioè distorsioni cognitive limiti cognitivi ma anche le rigidità motivazionali cioè l'essere completamente vissuti da una motivazione che magari non è adeguata in un determinato contesto ma ci trasporta lo stesso che caratterizzano di più la nostra specie o un insieme di specie nel quale noi rientriamo questa è una domanda molto difficile ma cioè io non vorrei diciamo arrampicarmi come si dice sugli specchi però mi è venuto in mente mentre formulavo questa domanda un personaggio chi meglio di Lawrence ha risposto ad una domanda così complessa secondo me è stato ovviamente il più chiarificatore su come nascono per esempio credenze i miti insomma la capacità di costruire ed elaborare cose abbastanza sofisticate però Lawrence io l'apprezzo in funzione diciamo di questa domanda per un'altra questione cioè Lawrence dice fondamentalmente che l'essere umano soprattutto l'essere umano non è quell'animale docile spensierato intellettualmente elevato che generalmente noi tutti pensiamo che sia e ha una predisposizione genetica per così dire ad essere estremamente aggressivo e lui quando è libero diciamo da briglie culturali mentali eccetera questa aggressività diventa spaventosamente grande e allora lui parla di contenitori cioè bisogna trovare nel comportamento aggressivo dell'uomo degli elementi che possono ridirigere verso altre direzioni il suo comportamento aggressivo e lui parla anche di cosiddetti mali diciamo dell'umanità che dovrebbero diciamo seguire queste indicazioni come ad esempio la guerra l'uso delle armi tecnologiche molto sofisticata la prostituzione la polimia eccetera eccetera cioè ora ritornando diciamo alla domanda se non si trovano diciamo questi canali credenze sbagliate e pregiudizi razzismo eccetera possono prendere vigore alimentare soprattutto quando non esistono gli alimenti culturali per moderare e ridirigere queste predisposizioni che noi abbiamo ad essere egoisti razzisti a prendere delle armi ovviamente per uccidere un nemico che magari abbiamo soltanto immaginato nella nostra mente diciamo questo quadro lorenziano molto interessante per almeno secondo me per capire perché queste forme masochistiche fondamentalmente perché sono autodistruttive dell'uomo a volte prendono cioè spazio si potrebbe dire così la nostra specie che poteva essere per esempio più simile al bonomo è un uomo che ha il chimpanze in questa sua intelligenza ma anche associata a questa aggressività questa predatorietà ha fatto sì che per milioni di anni prima ancora di arrivare all'homo sapiens è stata premiata dal punto di vista selettivo altrimenti non saremmo qua ci sarebbe qualcos'altro e adesso però con questa potenza tecnologica che abbiamo oggi con questa società così complessa dalle prime grandi città di più di 3000 anni fa se ho capito il senso diciamo è questo secondo me diciamo l'evoluzione della nostra mente è molto più lenta rispetto all'evoluzione di alcuni strumenti che noi abbiamo costruito modifichiamo miglioriamo ma che abbiamo costruito con la nostra mente stessa questa è diciamo è l'assurdità il modello tecnologico supera proprio in velocità l'evoluzione di un modello che poi che cos'è quello della nostra mente di una proprietà voglio dire che deriva dalle nostre attività corticali questo da un punto di vista voglio dire dell'acquisizione del pericolo che noi non percepiamo molto bene in funzione della complessità diciamo della ma della lentezza della nostra mente però qui c'è una contraddizione nel senso che deriva un po' dagli studi che sono stati fatti intorno agli anni settanta sul cosiddetto intelligenza artificiale quando si è pensato che si poteva creare diciamo un modello che potesse riprodurre il funzionamento diciamo del nostro cervello il fatto strano almeno secondo la mia prospettiva che poi sembra in contraddizione con quello che dicevo precedentemente che la nostra mente è un sistema biologico talmente complesso e sofisticato che nessun'altra diciamo realtà fisica potrà mai superare ovviamente nonostante che diciamo questa realtà fisica la creiamo con la nostra stessa mente cioè non esiste non potrà mai esistere al contrario di quanto sosteneva negli anni settant'ottanta e Minsky e Company che secondo me ci ha portato sulla brutta strada un un calcolatore che potrà fare tutto quello che vuoi mandarti sulla luna su Marte eccetera eccetera tutto quello che ti pare che potrà risolvere in un secondo calcoli difficilissimi ma quel calcolatore lì non potrà mai avere un minimo livello di coscienza non potrà mai essere cosciente al calcolatore potrai chiedere tutto quello che ti pare ma se gli dici per esempio sei innamorato di Maria oppure di Luisa avrà delle difficoltà a rispondere ma mi aggancio a questi ultimi discorsi la psicologia evoluzionistica che non è di certo la sfera di cristallo certo però dalle sue conoscenze dallo sviluppo della sua ricerca può aiutarci a identificare delle possibili tendenze nell'evoluzione della nostra specie sotto la pressione tecnologica perché la fine è quella della grande pressione come dico spesso la risposta è no assolutamente no cioè non per riprendere un po' i motivi di Darwin tutto legato al caso è andata così ma poteva andare diversamente ma perché in effetti non c'è bisogno di Darwin per spiegare questo non ci mancherebbe altro cioè quello che può fare la psicologia evoluzionistica secondo me già ha fatto tanto perché fino a vent'anni fa non si sapeva nemmeno che cosa fosse la psicologia evoluzionistica tant'è vero che quando in questa università mi hanno detto oltre a generale cosa avessi voluto insegnare ho detto psicologia evoluzionistica e che avevano detto evolutiva vuol dire no evoluzionistica ma cos'è la psicologia evoluzionistica quindi voglio dire il percorso in partenza insomma è stato abbastanza difficoltoso quello che vorrei chiedere insomma questa disciplina almeno rispetto al passato è di fare di più il confronto biologico comportamentale quindi anche ovviamente mentale con il resto del mondo vivente che è importantissimo è certo che è importantissimo cioè ovviamente Darwin qui ci aiuta molto ci ha dato diciamo questa prospettiva evoluzionistica che è difficile digerire però insomma la strada dovrebbe essere questa e alcuni autori insomma la stanno portando avanti la stanno stanno seguendo insomma siamo arrivati all'ultima domanda che è sempre la più che è quella più aperta più in base a quali uno è magari anche più personale se se per avere migliori risposte ai problemi della vita individuale e collettiva dobbiamo riuscire a farci migliori domande prima di avere le risposte dobbiamo avere migliori domande e per sviluppare migliori domande dobbiamo fare i conti con i nostri pregiudizi quali domande suggerirebbe a ciascuno di noi bella domanda nel senso cioè secondo me il punto più importante da individuare per poi formulare domande diciamo intelligenti è quello di pensare a quella che è stata la nostra cultura e come si è trasformata nel corso del tempo e come diciamo l'abbiamo utilizzata l'abbiamo sfruttata cioè la cultura non è qualcosa che cade dal cielo voglio dire la cultura fondamentalmente nasce da alcuni comportamenti estemporanei che poi vengono acquisiti da altri individui e insomma si ha una conoscenza estesa di un fatto di un fenomeno eccetera cioè se noi capissimo di più come in fondo ci siamo trasformati attraverso il corso della nostra evoluzione potremmo porci insomma delle domande come dice lei diciamo più intelligenti più ma il fatto è che secondo me abbiamo delle idee molto confuse su quello che sia in effetti la cultura quando parliamo di cultura pensiamo sempre a quella idealizzata no? che ne so la letteratura la pittura tutte le arti diciamo nel momento più umanistiche sì più sofistici ma la cultura non è solo questo voglio dire poi dobbiamo conoscere le radici fondamentali di questa cultura moderna di questa cultura così sofisticata se abbiamo questa visione complessiva insomma possiamo anche capire meglio qual è la nostra posizione rispetto all'arresto del mondo animale rispetto al mondo e così quindi non tenere scontato no che tutto cada dal cielo se l'ho capito bene va bene grazie di questa intervista prego è stato un piacere grazie a tutti grazie a tutti